Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose «Rabbuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Pace e bene carissimi amici, grandi cose ha fatto il Signore per noi. Mi piace cominciare proprio con il versetto che ripeteremo nel Salmo responsoriale, la riflessione sulla liturgia di questa Domenica Trentesima del Tempo Ordinario. Ascolteremo nel brano del Vangelo uno degli episodi più conosciuti, la guarigione del cieco Bartimeo. Restiamo sempre stupiti dinanzi ad un miracolo, ad un evento prodigioso. Accade ancora oggi quando sentiamo parlare di guarigioni, di grazie, di miracoli, ottenuti per la fede in colui che può tutto. La Vergine Maria e lo stesso Sampio molto tengono per la fede di coloro che chiedono aiuto ed intercessione. Ebbene, nella pericope evangelica c'è uno slancio di fede molto forte da parte di Bartimeo. «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» E mentre cercavano di farlo tacere, lui gridava ancora più forte «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù non resta indifferente, lo fa chiamare e gli chiede «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli risponde «Rabbonì, che io riveda di nuovo!» «Va», gli dice Gesù, «la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Bartimeo chiede a Gesù di essere guarito da una imperfezione fisica. Ma quanti veri ciechi erano presenti nella folla che cercava di impedire a Bartimeo di avanzare la sua richiesta. Quante cecità esistono ancora oggi? Quanto bisogno c'è ancora dell'intervento di Dio per sanare, guarire, salvare? Al di là del prodigio fisico, allora bisogna recuperare un rapporto autentico, di fiducia nel Signore. Gli occhi fisici allora non bastano per vedere e sperimentare la bellezza e la grandezza di Dio nella nostra vita. Spesso ci ritroviamo con un cuore non vedente. Un cuore cioè indurito dal nostro orgoglio, dal nostro egoismo, dalla nostra superbia. Un cuore annebbiato dal peccato. Questo stato impedisce di vedere la verità di Dio nella nostra vita. Ecco allora che anche noi, come il cieco Bartimeo, anche se dotati del senso della vista, abbiamo bisogno dell'intervento di Gesù. Abbiamo bisogno di guarire dalla cecità del cuore. Un senso spirituale necessario, come dicevo poc'anzi, per la nostra vita di fede. Spesso siamo noi i veri ciechi, ma come Bartimeo, anche noi possiamo sperare di sperimentare una vita nuova. Avere e recuperare la vista della fede. Possiamo vedere la luce di Cristo e cantare veramente le meraviglie, le grandi cose che il Signore ha fatto per noi. Viviamo allora da uomini nuovi e nella luce della verità di Cristo. Pace e bene e buona domenica a tutti. Pace e bene e buona domenica a tutti.